Signori Sono tornato qui su youtube dopo un botto di altro tempo Perché stranamente sono ristato male Sto male un giorno si e l'altro pure E siamo tornati su Red Dead Redemption Per un nuovo video ragazzo Il gioco è la vita Oddio Non vorrei di una cazzata Ragazzi ma è l'assistente di Assassin's Creed 4 Cazzo è quella Pearson Siamo tornati qua su Red Dead Redemption E dovremmo fare delle missioni Perché la storia dura un botto di ore E sinceramente prima del 2050 vorrei finirla Quindi facciamo un po' di una speedrun delle missioni Abbiamo cazzeggiato abbastanza E niente allora ciao zio Andrei a dormire quindi il letto mio dove? Allora è in teoria è lì Qui abbiamo il nostro caro amico Strauss Erg Strauss Qua Non mi ricordo se è austriaco o tedesco Ok Allora Andiamo nel nostro simpatico letto Anzi prima Quanti soldi ho? Non abbiamo cure Attenzione No perché è rasar? No no Dobbiamo metterle cure all'accampamento Dopo lo faremo Prima andiamo a dormire Dormi fino al mattino Signori allora iniziamo a fare le nostre missioni Ne abbiamo una quantità indecente Quindi Buonasera Buongiorno anzi Kiria No non andare a pesca Ok Facciamoci un abito meno brutto Allora Ehm No cambia i vestiti Vai Allora Ci mettiamo Vediamo Abiti Il pistole Il pistole Questo fa schifo Ehm Ma sai che è il migliore che ho forse Beh però potremmo farli personalizzati Guardate che eleganza signori Allora c'è una missione di Bill Devo pallarti Che sta succedendo di epico Dobbiamo rapinare una banca Che roma sentire non è niente azzea straccia e vorrei scoprire il suo paese napoli disney brigno l'opera regaletta realmente c'è strauss ci fa da commercialista andiamo a fare i debiti e nell'edita alla gente strauss perchè ma cambiati vestiti ma chi lo voleva sto sopravvito ma perchè me l'hai messo mi metto anche il cappello che ci sta un bot wow good morning ok ci servirà un fucile in teoria quindi prendiamo ok allora io ho questo ma posso prendere anche un altro ma non ho tutto baggato vabbè ok allora la tipa deve distrarre eliti nella banca noi entriamo facciamo un bordello ma perchè sono bagnati sti tipi c'hanno gli abiti che sembrano bagnati li hanno puliti bene va lucidi good luck gentlemen we got this but i'm ruined i'm not sure this is quite the plan ok we're going nah hold on wait till she's gone real then wait till she's gone real then would you care to i was child i don't want to go back to the workhouse ok allora apri la porta dove dov'è madonna se lo prendevo nooo sono coglione togliti vabbè oh dove cazzo stai andando allora che dobbiamo fare eh come le scassi vabbè facciamo saltare a sto punto dai eh e come faccio la dinamite ho la dinamite vai adesso le piazziamo tutte poi quando ne accendiamo una farà razione da catena e esploderanno tutte in teoria ma cosa vuoi devi fare tutto io faccio bene oh calmati spero veloci accendi vai ora ora salta tutto quanto in aria via ora salta tutto quanto in aria oh oh quanta miccia ha minchia vabbè vabbè non fa tanto botto prendi il denaro ma do 3000 ma è un casino allora se riusciamo a uscire da sto posto con tutti i soldi se riusciamo a scappare siamo ricchi se riusciamo a scappare siamo ricchi andiamo via forza andiamo via andiamo via andiamo via andiamo via andiamo via andiamo via oh andiamocene che cazzo fate qua compriamo un'arma un giorno ah non c'è ok ma ho il fucile oh via 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 corri 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 oddio raga è la musica che uso per per i video è proprio quella e di questa missione non me lo ricordavo figo da che nuvole sta piovendo esattamente oh al giù ma dove è mira headshot proprio goddammit c'è il cavallo che è stanco gli serve eh un cazzo gli serve c'è niente merda corri 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 benissimo si minchia ma un bordello di soldi ma quanti soldi ho per me un po quanto è per me chi è quello che corre ho spawnato 300 perchè devo andare a ranch ah prima c'era leopold strauss devo per forza fare in tedesco leopold hauss devo fare la missione del tiri giù giù no dicevo c'è la missione di leopold strauss che bisognava andare da quella tipa vedova a prendere i soldi mi è appena venuto in mente che musica metterò voglio diventare vedova 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 ogni riferimento a cui disusservere è puramente casuale eccoci rinascerò dimagrirò Eccoci! E' my fault about the way the world is. He didn't have a choice. He was good, and he did good. There wasn't no choice in that. And you as good as killed him yourself, and don't kid yourself. You had a choice. You speak as if killing was something I cared about. You never wonder about a ton of... I hope it's hot and terrible, Mrs. Downs. Otherwise, I'll feel I've been sold a false bit of goods now. Please, give me that money. You got a lazy eye, a lack of respect. Which is it, boy? I don't got no lazy eye. No respect for the likes of you. Well, maybe when your mother's finished, more than your father. I'll keep one of them, on your behalf. If you think on that point. Well, maybe you shall, sir. And maybe other events will transpire. The rest of them books, and you will find your power to this. The vengeance is a movie. It's good. Oh, Mrs. Downs. Thank you for your punctuation. Next to God, who is? Next? Next, Clements. I have to take the word out there. Good day. We've just done 30 million in a rapina. He wants the money from the type of Vedo. Okay. But, guys. You can find a game that is graphically better than this. That's right. That's right. That's right. That's right. That's impossible. We'll see you next time. Bye.